Si ciao, eccomi Drang. Oggi è la mia storia dell'agosto. Agosto mi ha dato il benvenuto con qualche pioccerellina. La pioggia è stata breve ma fredda. Comunque, il mio cuore era molto canto e felice. Apprezzo le riunioni memorabili, le nuove amicizie e tanta energia positiva. Sono grata nei vostri confronti, nei confronti dei amici italiani, di vostro supporto prezioso. Apprezzo molto il momento che ho aperto questo canale a tutto Drang che è nato da un canto pomeriggio della metà di agosto. Nel cuore dell'estate del Vietnam del Sud, quando il sole splendeando, nella mia vita avviene silenziosamente una trasformazione e le storie si raccontano. Ricordo quando ho iniziato con la lingua italiana, ero con molti dubbi, ma adesso, già dieci anni passati, ogni giorno mi sento più più sicura della mia decisione, che mi porta a diverse opportunità nella vita mia. Questo agosto voglio ringraziare tutti i miei carissimi amici. Grazie Ivan, Matteo, grazie Francesca, Mattia, grazie Hilary, Roberto, grazie signore, signora Paolo e Paola. Grazie di tutto, vi voglio tanto bene e ci rivedremo un giorno presto in Italia, no? Questo settembre, da una prezza fresca che porta con sé tanti desideri e nuovi progetti di svilupparmi e il mio canale a tutto Drang, vorrei solo dire, ricorda. A tutto Drang, so nyerai indire, ciao! 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 Ciao!